Una mappatura più che una classifica dei luoghi più significativi della costa e dei laghi d'Italia. Sono circa 100 le località inserite all'interno della guida Blu 2022 edita da Legambiente e Touring Club Italia. Da più di 20 anni la guida crea spunti per una vacanza attiva fatta di esperienza all'aria aperta, di visita ai borghi e legata soprattutto ad una mobilità sostenibile. Sì, è un tassello, un gradino che manca a Torre del Cerrano che in questo momento guida il brand Abruzzo per le vele Legambiente e Touring Club. Bisogna lavorare ancora su qualcosa, però a nostro avviso il salto di qualità è fattibile anche perché è diventata ormai una buona pratica consolidata e sta facendo un po' lavoro sul tema della vacanza attiva e sostenibile, elemento che premia sia la qualità che la conservazione di questo territorio. Unica premiata in Abruzzo, la Torre del Cerrano che conferma le quattro vele e punta per il prossimo anno al massimo riconoscimento, ovvero la quinta vela. Questo sarà possibile grazie ad un lavoro sinergico tra le amministrazioni comunali di Silvi e Pineto e le varie associazioni del territorio. Siamo tra i 22 in tutta Italia rispetto alle 100 bandiere assegnate alle varie località. Ovviamente ci piacerebbe anche raggiungere la quinta vela, sappiamo che questo significa migliorare i servizi, migliorare l'accoglienza, migliorare il territorio. Buona parte del turismo costiero avviene nella provincia di Teramo dove i nostri due comuni di Silvi e di Pineto sono parte integrante e fondamentale. Sappiamo che soprattutto il fine settimana si riversano tantissimi turisti dalla zona metropolitana di Pescara o dall'entroterra e migliorare la qualità del servizio preservando l'ambiente grazie alla collaborazione di tutti, le associazioni di volontariato e non, è un obiettivo indispensabile.